Allora, buonasera, ben trovati. Ringrazio Susanna Di Pietra che ancora oggi è con noi e il professor Gianni Rezza, il direttore del Dipartimento Malattie e Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Partiamo con i dati relativi al bilancio di oggi. Ad oggi il totale delle persone positive, attualmente positive, è di 103.616 con un incremento di 1.363 pazienti in più rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziata circa una settimana fa. Ad oggi i pazienti in terapia intensiva sono 3.260, 83 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.023 con un incremento di 176 rispetto a ieri. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 72.333, il 70% del totale. Purtroppo oggi abbiamo un numero di deceduti di 566 persone. Il totale dei guariti invece sale a 35.425 con un incremento di 1.224 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo quello che voglio ricordare è il numero dei nostri volontari. Oggi sono 18.477 che si sommano e si aggiungono ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al personale delle regioni e al personale sanitario. Per quanto riguarda i fondi raccolti dal Dipartimento, anche durante questo periodo pasquale non si è fermata la raccolta e la destinazione di fondi alle attività del Dipartimento e del Commissario. Abbiamo raccolto 117 milioni e 17.123 euro. Queste risorse andranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori. Ne abbiamo già speso quasi 25 milioni per l'acquisto di ventilatori e di PI. Per l'esattezza 9 milioni 420 mila euro per ventilatori, 15 milioni 220 mila euro per mascherine e poi c'è una quota che è relativa alle spese di trasporto per 269 mila euro. Poi vorrei dare una rettifica rispetto alla notizia che è apparsa poco fa sul sito di Repubblica Torino. È stata data la notizia del tutto infondato. Ci tengo a chiarire che come la procedura che noi abbiamo dotato sin dall'inizio per la task force dei nostri medici e infermieri anche sabato scorso tutti i componenti della team degli infermieri che sono stati poi assegnati alle regioni e portati nelle varie regioni erano stati sottoposti al test per il coronavirus e quindi sono stati trasferiti nelle regioni tutti coloro i quali avevano superato il test avendo un test negativo. Quindi nessuno mai è partito alla volta di Torina in attesa del risultato del tampone o con un risultato incerto. Posso confermare che durante i nostri controlli preliminari come è accaduto in altre occasioni ci sono state due persone. Una è a risultato positiva, l'altra con un risultato non proprio positivo e queste persone non sono partite. Quindi relativamente ai infermieri che sono partiti per la regione Piemonte, la regione Piemonte in via precauzionali ha deciso di tenerli in stand by e quindi non sono stati impiegati nelle loro attività. Per quanto riguarda la quarantena io voglio ricordare che il personale sanitario che è chiamato a prestare la propria opera viene impiegato sotto una particolare misura di sorveglianza sanitaria. Quindi anche questo personale viene sottoposto a sorveglianza sanitaria e continua a lavorare fin quando non dovesse avere eventuali sintomi. Questo è quello che ci tenevo a precisare rispetto a questa notizia che era stata diffusa e divulgata qualche minuto fa. Mi fermo qui, do la parola al Professor Rezza. Prego Professore. Io volevo un attimo cercare di un'interpretazione dei dati perché tante volte si dice come mai a distanza di un mese dal lockdown voi dite che le cose vanno meglio e dopo invece sembra che i casi siano sempre tanti e che soprattutto purtroppo i decessi siano ancora una quota elevata. Il punto è questo, che a parte che subito dopo il lockdown continua un po' di trasmissione, chiaro, intradomiciliare, ad esempio, intrafamiliare. Può esserci, non so, nei condomini, per esempio, un po' di residua trasmissione del virus. Quindi questo fa sì che la coda si allunghi, no? Quindi abbiamo, dopo il lockdown, un periodo in cui il tempo di incubazione, quindi per alcuni giorni continuano i casi, la coda dei casi che è stata acquisita prima, quindi un po' di trasmissione intrafamiliare può esserci. Dopodiché però noi dobbiamo tenere conto di un fatto, che il tempo che trascorre fra il momento del contagio e il momento della notifica, cioè oggi, beh, possono trascorrere anche 20 giorni. Allora che succede? Che quelli che, tante volte io vedo sulla stampa, oggi 3.000 nuovi contagi, non sono nuovi contagi, sono nuovi casi. Persone che hanno acquisito l'infezione 20 giorni fa. Quindi quello che noi vediamo effettivamente è qualcosa che è accaduto prima in termini di contagi. In termini di mortalità è ancora di più, perché chiaramente la mortalità può essere anche ritardata, molto ritardata. Una persona purtroppo sta in terapia intensiva un certo numero di giorni. Quindi voi dovete tener conto, momento del contagio, momento della comparsa dei sintomi, momento della diagnosi, ospedalizzazione e esito, favorevole nella maggior parte dei casi, purtroppo sfavorevole in altri. Quindi anche se purtroppo dobbiamo registrare che la mortalità è stata piuttosto elevata, però quello che si vede oggi è qualcosa che in termini di contagio però è attribuibile a giorni fa. Ecco, questo dobbiamo tenerlo in mente, se no non riusciamo a capire. Come mai dite che va meglio quando purtroppo il numero di morti è ancora elevato, quando i casi stanno un po' diminuendo di fatto ogni giorno, perché oggi sono 3.100 rispetto ai giorni scorsi che erano una cifra più elevata, però stanno diminuendo a poco a poco. Ma diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi. Quindi non diciamo nuovi contagi, sono nuovi casi, il cui contagio è venuto tempo fa. Spero di essere stato chiaro su questo, perché altrimenti ci sono delle interpretazioni magari dei dati che possono... il che vuol dire che quindi quello che vedevamo dai modelli matematici, dalle curve che ci dicono, le curve epidemiche fatte per data di insorgenza dei sintomi, tutti quei segnali positivi, la minore pressione sull'ospedalizzazione, sugli ospedali, sulle terapie intensive. Questi sono indicatori un po' più precoci, no? Che ci dicono che le cose stanno andando meglio. Allora, questo che vuol dire? Che l'altra volta ho detto a me che tana libera tutti. Questo che vuol dire? Siamo ancora in fase 1, non c'è dubbio. Sono segnali positivi che però devono essere consolidati in attesa di. Quindi i segnali positivi ci sono. Il numero ancora elevato di casi di morti attribuibili al contagio avvenuti tempo fa. Naturalmente dobbiamo vedere come si consolideranno questi dati, se si consoliderà una discesa nel numero di nuovi casi, come ci auguriamo, ed anche dei recessi, così speriamo. Quindi spero di essere stato chiaro sull'interpretazione dei dati, che altrimenti a volte possono gettare, possono restare qualche perplessità, ma vanno interpretati naturalmente con molta cautela. bene, grazie. Diamo spazio alle vostre domande. Buonasera, Daniele Petraroli, Tg2. Io avrei un paio di domande per il professor Rezza. La prima è se esistono studi sui danni agli altri organi oltre ai polmoni, sui guariti o se è ancora presto. La seconda riguarda il calcio. Basket, pallavolo e rugby hanno deciso di chiudere anticipatamente la stagione. Lega di Serie F del calcio insistono nel voler continuare. Ovviamente poi la decisione finale spetterà alla politica e alla politica del pallone. Quello che vorrei sapere da lei però è se secondo il comitato tecnico scientifico è pensabile di dare il via libera a uno sport di contatto che riguarda 30-40 atleti più la terna arbitrale, ma anche centinaia di addetti per far funzionare le partite o invece se no sarebbe meglio rimandare tutto a settembre quando la situazione sarà più tranquilla. Grazie. Sì, sulla prima domanda. Certamente questo è un virus nuovo e quindi gli effetti che ha sull'ospite non sono ancora del tutto noti. Però non per ora, nonostante il follow up sia limitato, diciamo, il monitoraggio clinico dei pazienti non si assiste a residuati, cioè nel senso a deficit di organo che possono persistere una volta che la persona è guarita. Una volta che la persona è guarita non sembra avere particolari residui. Abbiamo visto, perché sappiamo tutti, abbiamo letto di recidive che non sono reinfezioni, ma probabilmente sono recidive. C'è una persona che magari momentaneamente sembra essere guarita, magari un tampone negativo, dopo può essere di nuovo positiva, però queste recidive vanno approfondite e non è detto che la persona che recidiva sia dopo contagiosa. Su questo si sta facendo uno sforzo chiaramente scientifico per capire di più. Ci sono dei lavori che parlano di una compromissione o di possibili effetti a livello del sistema nervoso centrale, però sinceramente ancora questi dati non sono consolidati. Quello che si sa è che ci sono dei sintomi che erano stati in un primo momento magari negletti, erano come l'anosmia, per esempio, cioè il fatto di non sentire gli odori, che però non sembrano persistere nel tempo. Sono un segno diciamo abbastanza precoce, probabilmente un danno a livello dell'epitelio, per esempio olfattivo, può esserci che è un'assenza di gusto per talvolta che è dovuto a un danno dell'epitelio, probabilmente degli organi del gusto. Ecco, al di là di questo, chiaramente nei casi più gravi, si capisce perché nei casi più gravi, se c'è una tempesta citochinica, c'è una reazione dell'ospite sfavorevole, allora in quel caso ci può essere una compromissione di altri organi, ma stiamo parlando di dei casi gravi. Per quanto riguarda la domanda sul campionato, questa io da romanista dovrei dire tutto a monte perché chiaramente non mi sembra che il CTS si sia ancora espresso in maniera definitiva, dopo è chiaro che come lei ricordava, tocca alla politica decidere, però certo è uno sport che implica dei contatti e questi contatti possono implicare un certo rischio di trasmissione. Ho sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio più stretto, magari con test ripetuti ogni n giorni ai calciatori, sinceramente mi sembra un po' tirata questa ipotesi. Del resto stiamo quasi a maggio, insomma, su via. Credo che dal punto di vista di un... se dovessi dare un parere tecnico non darei in questo momento un parere favorevole, sinceramente. Dopodiché sta la politica naturalmente a decidere. Io le do in questo momento un parere mio, personale, che penso però, penso che possa essere condiviso dal CTS. Buonasera, Lorenzo Di Cicco, del Messaggero. Una domanda al Professor Rezza sui vaccini. Nelle ultime ore sembrano aumentate molto le aspettative. Una società di Pomezia, in collaborazione con l'Università di Oxford, ha annunciato che da fine aprile partirà una sperimentazione su 550 volontari. Ecco, volevo capire se si tratta insomma di speranze fondate, se serve ancora cautela. Insomma, i tempi quali possono essere? Grazie. Allora, sì, perché sui vaccini c'è un'accelerazione, in quanto abbiamo sempre detto un anno, probabilmente il prossimo anno, il primo trimestre del prossimo anno. Chiaramente, che succede? Che in corso di epidemia le agenzie regolatorie in genere sono più generose, perché è chiaro che se soppesano i possibili rischi di una vaccinazione, ha i vantaggi che invece la vaccinazione avrebbe. E quindi, in genere, si accelerano molto i tempi. Ci sono... l'altro giorno Credo Science, o Nature, Credo Science ha riportato un... in un articolo mostrava i primi cinque vaccini che sono in sperimentazione umana, di fase 1, quindi quella sulla safety, sulla sicurezza, tra i quali un vaccino a mRNA dell'NIH, in collaborazione con una company privata, e altri vaccini in sperimentazione anche anche in Cina. Questa, per quanto riguarda la Pomezia, diciamo, si tratta di Advent e RBM, in collaborazione con il Jenner Institute, quindi l'Istituto Jenner di Oxford, Oxford University. È un vaccino vettoriale, cioè ha un vettore, che è un adenovirus, che non replica nell'uomo, perché è un adenovirus di scimmia, che esprime la proteina di superficie, lo spike, del coronavirus, che è prodotto invece da Oxford. Qui adenovirus, Pomezia, Oxford, lo spike. Allora, è un vaccino che utilizza una piattaforma già utilizzata per il vaccino contro Ebola, lo stesso adenovirus, che esprime però una proteina di superficie di Ebola, in questo caso del coronavirus. Quindi la piattaforma è la stessa, per cui il vantaggio sarebbe di non avere un vaccino particolarmente innovativo. Un vaccino, per carità, sempre innovativo come concezione, che però già è stato utilizzato. e, per esempio, il vaccino anche in commercio, che è diverso, sfrutta un altro vettore animale, per quanto riguarda Ebola, è un vaccino che usa una piattaforma simile. Quindi il vantaggio sarebbe quello di poter accelerare ulteriormente i tempi, magari comprimendo le fasi, fase 1 e fase 2, o addirittura fase 1, 2, 3, 2 bis. Ho visto, diciamo, che le prospettive erano abbastanza ottimistiche. Naturalmente questo non riguarda solo questo vaccino, ma riguarda tutti i vaccini, è quanto siano in grado di evocare le giuste risposte immunitarie e che queste risposte siano protratte nel tempo. Questo è quello che noi chiaramente ci auguriamo. Quindi sì, questo è un candidato promettente. La problematica riguarda tutti i vaccini attualmente in sperimentazione. Buonasera. Filomena Rorro. Chi l'ha visto? Rai 3. Una domanda sui tamponi che continuano a farci i nostri telespettatori. Cioè, poiché ci dicono che sono stati fatti tamponi a politici, calciatori, anche colleghi giornalisti, e non al medico, al dottor Valli, che prima di morire a Roma qualche giorno fa ha denunciato, ha scritto su un post testualmente, i tamponi li hanno fatti a tutti, a Zingaretti, a Sileri, a Porro e a Menocchio, la febbre a 38 e mezzo. Allora, ci chiedono perché succede questo? C'è forse una corsia preferenziale? Provo a rispondere io. Che ci siano state le difficoltà nel fare i tamponi, l'abbiamo visto in una fase iniziale, anche sul numero dei tamponi. Avete visto che adesso il numero dei tamponi è elevatissimo. Siamo sopra i 50 mila mediamente al giorno. Sono stati fatti, secondo quelle che sono le regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io non credo che ci siano delle corsie preferenziali. Quindi ci saranno stati dei casi, bisogna vedere caso per caso, il perché non sono stati fatti i tamponi in certe occasioni. Però mi sento di escludere delle categorie di privilegiati nel fare i tamponi. Io credo che i tamponi vengono fatti quando ce n'è bisogno e chi, appunto, lo richiede. Nel caso specifico non conosco bene la questione, quindi non posso darle una risposta. A proposito dei tamponi, c'è stato un problema non con i tamponi pure, propriamente, ma anche quei test, quei reagenti che mancavano. In qualche modo si sta cercando di far fronte. Come diceva, giustamente ricordava il Dottor Borrelli, il numero di tamponi è aumentato molto. E avevo dimenticato nella mia introduzione, effetti. Noi stiamo riscontrando una certa diminuzione nel numero di casi o quantomeno stabilizzazione ai livelli più bassi, nonostante si stiano effettivamente facendo più tamponi. Uno dei problemi era Milano, per esempio. In Milano si riportavano delle catene di trasmissione, però ultimamente hanno molto aumentato i tamponi. Forse è venuta meno la pressione, è diminuita un po' la pressione che avevano, le strutture sanitarie, riescono a fare più tamponi probabilmente anche a domicilio. Il problema c'è stato, è inutile negarlo, chiaramente, però mi sembra che le cose stiano andando meglio. Naturalmente, io lo ripeto, lo ripeterò fino alla noia, stiamo in fase 1. Bisogna stare ancora attenti, cauti, rispettare le raccomandazioni dell'autorità sanitaria. In preparazione di un'eventuale fase 2, quando verrà, bisognerà essere molto pronti anche su questi aspetti, perché i casi veramente andranno individuati con molta tempestività, perché quella sarà la nostra risorsa che avremo per contenere i focolai e anche per trattare bene, diciamo, i malati che non dovessero essere ricoverati in ospedale. Cardinaletti, Tg1, una domanda per il professor Rezza. Torniamo sui decessi. Oggi superiamo i 20.000 dall'inizio dell'emergenza. Tra l'altro una nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che questo coronavirus è 10 volte più letale rispetto al virus dell'influenza del 2009. Professore, intanto un commento su questo. Poi lei ha detto, abbiamo dei dati di miglioramento che vanno consolidati. Quando pensate di cominciare a vedere un consolidamento anche del trend in calo dei decessi, visto che resta ancora molto alto? Grazie. Sì, io non ho mai avuto dubbi che non si trattasse di un'influenza, tantomeno di l'influenza stagionale. Se il paragone con l'influenza si poteva fare era con l'influenza pandemica. L'ultima influenza pandemica, ricordiamo, non è stata particolarmente virulenta perché il virus H1N1 del 2009 risparmiava abbastanza le persone più anziane che erano state esposte a virus simili in passato. Quindi è chiaro che la letalità di questo virus, confrontata con quello dell'influenza stagionale, è maggiore, non c'è dubbio. Anche perché, ma è abbastanza banale. Io ricordo persone che dicevano, colleghi diciamo, che si poteva trattare di un raffreddore, di una simile influenzale, una sindrome simile influenzale. Ma no, perché è un virus che comunque attacca il polmone. Quindi la polmonite, in una certa percentuale di casi, la dà. Per cui che abbia una letalità più elevata. Dopo, oltretutto, finché non avremo un vaccino, non potremo proteggere le persone più fragili. Quindi, diciamo, era scontato. Quando potremo vedere gli effetti delle misure di contenimento anche sui decessi. Credo che sia l'ultimo indicatore a diminuire. Perché, come dicevo prima, il tempo che intercorre fra il contagio e il decesso, chiaramente, è più lungo rispetto al tempo che intercorre fra il contagio e la diagnosi, fra il contagio e la notifica. Quindi questo, purtroppo, sarà l'ultimo degli indicatori che noi vedremo deflettere. E questo spiega perché abbiamo un trend che è in leggera diminuzione anche dei decessi. Fortunatamente, perché eravamo arrivati a mille, vero, Angelo? Eravamo arrivati addirittura a mille. Cioè, 500 non siamo contenti. Perché, voglio dire, assolutamente sarebbe una cosa ancora triste e drammatica. Assolutamente. Però, certamente, rispetto ai mille di giorni fa, c'è stata una diminuzione. Naturalmente, io ripeto, sarà l'ultimo. Prima vedremo diminuire, magari, i casi e dopo ancora i decessi. Quindi sarà l'ultimo indicatore. Allora, io le dico, stiamo cercando di modellizzarlo. Però dal contagio alla notifica, diciamo, stiamo probabilmente sui 20 giorni. Quindi, dal contagio alla morte potrebbe essere un tempo anche più lungo dei 20 giorni. Adesso si sta contraendo, perché l'aumentato numero di tamponi ci fa pensare che si arriva prima alla diagnosi. Quindi questo tempo dovrebbe contrarsi. però, noi possiamo dire che almeno 20 giorni era una buona stima. E quindi questo è il motivo per cui vediamo una flessione, ma chiaramente è più lenta rispetto alla flessione che c'è stata nell'accesso all'ospedale e alle terapie intensive. E questo ci dice perché bisogna consolidare il trend. Cioè, quindi bisogna, come dire, resistere. Ecco. Buonasera, Domenico Palesse dell'Ansa. Un paio di domande. Ieri sera Locatelli ha proposto, ha auspicato la ripresa delle scuole direttamente a settembre. Se su questo siete d'accordo. E poi, magari, al Dottor Borrelli, una domanda sulla task force. Perché oggi si parlava di una graduale ripresa, probabilmente anche forse la prossima settimana, di alcune filiere, tipo la moda, le auto. Qualcosa su cui state lavorando oppure soltanto voci. Grazie. Sulle scuole? Siamo in fase 1, eh. Cioè, non stiamo... No, perché va bene. Cioè, noi stiamo dicendo, ci sono degli indicatori positivi, ma cautela però, perché il virus circola. Quindi, è chiaro che non posso non essere d'accordo con il Professor Locatelli. Anche perché, insomma, sinceramente, arriviamo già al 3 maggio, insomma, non mi sembra che... Sinceramente. E dopo io direi una cosa, forse spero anche Angelo, il Dottor Borrelli sia d'accordo. Quante cose nuove abbiamo visto durante questo periodo. Il teleravoro. Il lavoro agile. Cioè, vuol dire, noi in Italia, no? Ne parlavamo dai tempi, come si dice a Roma, di checchennina. Altri Paesi l'avevano già introdotto. Abbiamo visto che c'è questa capacità anche nel nostro Paese, no? Probabilmente un po' di inventiva, di innovazione. Questo periodo drammatico ha saputo anche, come dire, favorirlo, aiutarlo. Per cui, è chiaro che nel momento in cui... Un Paese che non può reggere il lockdown, aveva volte due mesi, tre mesi, nessun Paese, no? Il lockdown completo. Però, riavviare attività produttive, nel momento in cui si consolidasse un trend positivo, non vuol dire... Aspetta la politica, per carità, ma non vuol dire che tutto torna come prima. Perché, chiaramente, alcune cose, distanziamento sociale, precauzioni sui trasporti e via dicendo, inevitabilmente dovranno continuare. Sui lavori della Task Force posso dire che sta lavorando e io non mi sento di aggiungere nulla. Lasciamogli lavorare. Hanno appena iniziato a lavorare. Quindi, poi, sulla base di questo lavoro ci sarà un report e sarà anche lì il decisore politico a dover decidere come fare. Quindi, è assolutamente prematuro qualsiasi ipotesi. Altre domande, prego. Salve, buona Pasquetta. Sono Ildania Petra Calvina di Rai 1, la vita in diretta. Io ritorno un po' sui positivi quotidiani. La dottorezza l'ha spiegato poco fa, però io vedo che, almeno a mio parere, i numeri continuano ad essere alti di chi ogni giorno viene riconosciuto come positivo. È vero che l'infezione risale, l'incubazione risale a due settimane fa, ma era fine marzo ed eravamo in lockdown. La domanda è cosa ci aspettiamo. Se i numeri continuano a salire così dei nuovi positivi rispetto ai tamponi fatti, quando si passerà una fase più di graduale apertura, comunque rimane una situazione di grande, non dico rischio, però comunque la positività è in crescita. E allora, come leggere questo dato e, soprattutto, se i dati crescono in questo modo, la fase 2, quando torneremo un po' a muoverci più liberamente, cosa accadrà? Lascio rispondere il professore Rezza, ma prima, quando ci siamo visti, abbiamo commentato un grafico, no? Col professore Rezza, che lui mi ha spiegato che comunque la tendenza è quella in un decremento, ma vorrei che fosse lui a dire quello che mi ha detto su quando commentavamo questi dati. Sì, no, a parte il fatto che stiamo vedendo quello che è avvenuto in termini di contagio, è avvenuto 15-20 giorni fa. Sì, però, nella prima fase, intanto si continuano a vedere i casi che, dato il tempo di incubazione, sono stati acquisiti prima del lockdown. Dopo una certa trasmissione intrafamiliare c'è, persiste in genere, noi facciamo un isolamento domiciliare che non è, non si fa come i cinesi che deportano i familiari in strutture apposite. Quindi, insomma, c'è una tendenza alla trasmissione intrafamiliare, ad esempio. Abbiamo avuto il fenomeno dell'RSA, focolai ospedalieri nell'RSA, quindi sono tutti i focolai che determinano comunque sia un certo numero di casi nuovi, di contagi nuovi. Dopodiché i nuovi casi dovrebbero tendere, dovrebbero tendere a scendere, quindi dopo un periodo di almeno 20 giorni, rispetto agli ultimi contagi. Gli ultimi contagi non arriveremo a contagi zero, ve lo dico subito. Allora, se vedete la curva a cui faceva riferimento il Dottor Borrelli prima. Ebbene, anche in termini di casi riportati, comunque, abbiamo avuto una sorta di... Io non la voglio chiamare picco, perché noi abbiamo avuto un picco naturale, un altro mito da sfatare. Noi abbiamo avuto un aumento dei casi, dopodiché questi casi hanno raggiunto un massimo, perché grazie all'intervento, se non ci fosse stato l'intervento, la curva avrebbe continuato a crescere. Noi non stiamo vedendo un incremento, stiamo vedendo un leggero decremento con stabilizzazione nei casi che riportano quotidianamente, che non è un incremento. Se voi fate una curva accumulativa, diciamo, incrementano, incrementano. No. I nuovi casi sono di meno rispetto a quelli riportati una settimana fa. Dopodiché abbiamo un andamento ondulante, perché essendo riportati ogni giorno c'è una certa oscillazione, che è dovuta al fatto che un giorno fanno più tamponi, un giorno si fanno più notifiche, e questo porta a una normale oscillazione. Se però tiraste una linea dritta, voi vedreste una certa tendenza alla diminuzione. E' chiaro che prende tempo. Non è un fenomeno così. Io oggi chiudo, domani che bello tutti a spasso. Non è così. E non lo sarà. Cioè, quei modelli che vi fanno vedere che i casi scendono a metà maggio, arriviamo a zero. Non arriveremo a zero. Cioè, il virus non stopperà la sua circolazione, purtroppo. Perché forse a Wuhan ci sono riusciti, prendendo le misure incredibili, e comunque hanno un fenomeno un po' di ritorno. Perché comunque sia il virus continua a circolare nei dintorni, in altri paesi, e tende a rientrare. Noi quindi avremo la tendenza alla diminuzione, che si consoliderà. Tutti i nostri modelli ce lo dicono. Però il virus continuerà in qualche misura a circolare. Quindi dovremo mettere toppe in continuazione. Allora, perché dobbiamo essere molto preparati per questa benedetta fase 2 quando arriverà? Perché, dando per assunto che il virus continuerà a circolare, anche se a un livello più basso, a un'intensità più bassa, ogni volta che si creeranno dei cluster, dei grappoli dei casi, dovremo essere prontissimi a identificarli e a bloccarli, contenerli. Apposta, diciamo, dobbiamo rafforzare il territorio, la vigilanza del territorio. Che siano app, vanno benissimo, eccetera. Però ci vogliono gli uomini, gli uomini. Vedete pure in Corea ci sono le app, sfruttano la tecnologia, è magnifico. Però ci hanno anche gli uomini che vanno lì, fanno i tamponi, seguono, rintracciano i contatti dei casi. Bisognerà fare un lavoro molto forte da parte delle ASLE, i Dipartimenti di Prevenzione, i medici di barri, tutto quello che è medicina del territorio, dovrà essere rafforzato. Quindi non solo le terapie intensive che sono state rafforzate, no Angelo? Questo me lo conferma sicuramente Angelo. Ma anche sul territorio. Bisognerà rafforzare il territorio perché bisognerà essere molto molto pronti ad agire per identificare e contenere eventuali focolai nuovi. Bene. Allora, grazie così. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.